buonasera amiche e buonasera amici bianconeri martedì primo marzo arrivo piuttosto lungo con il mio video di giornata ma d'altra parte quando sono in trasferta di lavoro non mi è possibile realizzare video prima il contenuto sostanzialmente non cambia si tratta soltanto di avere un pochino più di pazienza e da parte d'altra parte mi piace farmi desiderare scherzi a parte lo avete visto in copertina leader voglio sviluppare questo video nonostante ci si trovi nel giorno della vigilia della semifinale di coppa italia tra fiorentina juventus sulle parole rilasciate dall'olandese matais del it al portale olandese rondo prima però un inciso sulla semifinale di coppa italia va fatto perché oggi ha parlato massimiliano allegri il quale ha detto che uno tra morata vlaovic e mois ken riposerà così come probabilmente esorderà dal primo minuto uno tra a che sulle emiretti così a sensazione diciamo che personalmente per quanto vlaovic non le potrà giocare tutte per quanto sicuramente la partita di domenica contro lo spezia resta una partita fondamentale nella continua rincorsa ad un miglioramento della propria posizione in classifica ad un avvicinamento anche delle zone alte della classifica perché non dimentichiamo che la prossima giornata vedrà la sfida napoli milan e roma atalanta quindi con una grande ghiotta opportunità da parte della juventus di poter accorciare ulteriormente ed eventualmente allungare sulla atalanta quindi quella secondo il mio punto di vista è la partita sicuramente più importante nonostante quando ti chiami juve non puoi tralasciare nulla e certamente puntare ad un obiettivo come la cup italia non è certamente cosa di poco conto è cosa che va tenuta in considerazione la juve ci arriva con tante defezioni lo sappiamo e quindi la sensazione è che non non si rinuncerà a dusan vlaovic nonostante ripeto sia per lui sia per la juventus probabilmente la sfida con lo spezia quella cruciale quella più importante però juve non vuole fallire vuole mantenere aperta la qualificazione per poi giocarsela nella gara di ritorno è eventualmente pensabile che possa esserci una sorta di staffetta tra vlaovic e chi tra moisken e morata partirà dalla panchina sulla discorso invece giovani la sensazione che è in vantaggio tra sulle miretti è che sia proprio quest'ultimo che dovrebbe giocare in ruolo di esterno alto a destra al posto di juan quadrado ma veniamo alle parole rilasciate alla intervista rilasciata da mattais del it al portale olandese rondo proprio perché su questo canale poco tempo fa vi andavo raccontando della netta sensazione che c'è che la juventus e mattais del it vogliono allungare il matrimonio mi rifaccio chiaramente alle dichiarazioni di minoraiola che avevano inevitabilmente sollevato un polverone che avevano inevitabilmente messo così preoccupazione nel popolo bianconero su una possibile partenza in estate di mattais del it ma ricordiamo intanto che c'è una clausola da 125 milioni di euro che credo nessuno oggi sarebbe disposto a pagare per rilevare qualora il giocatore fosse consenziente il cartellino dell'olandese e quindi prelevarlo dalla juventus juventus che non vuole assolutamente cedere il giocatore poi è chiaro che a fronte di un'offerta da 100 milioni di euro chiunque potrebbe traballare soprattutto se questi 100 milioni di euro sono magari indirizzati ad un difensore ma questo è un difensore leader un giocatore che sta diventando sempre più importante sia nello scacchiere di massimiliano allegri sia proprio all'interno dello spogliatoio un leader abbastanza silenzioso ma certamente un leader perché le parole rilasciate appunto da mattais del it al portale orlandese rondo fanno capire di che pasta è fatto questo ragazzo classe 1999 che si è già preso la juventus e che per detta sua oggi è felice a torino è felice alla juventus è arrivato il giocatore che mancava quell'attaccante che di cui lui stesso sentiva il bisogno avere in squadra giocatore che lo ha impressionato quando lo ha affrontato da avversario quando ancora lui era la fiorentina un giocatore che lo ha impressionato per l'entusiasmo e per la capabilità con la quale cerca sempre di arrivare alla segnatura e d'altra parte le parole di minoraio la ci racconta lo stesso mattais del it sono parole di tre mesi fa ed in tre mesi tante cose possono cambiare e certamente deve essere cambiato anche l'umore perché all'epoca quando minoraio la rilasciò queste dichiarazioni era un periodo in cui amatais del it qualche volta veniva preferita la coppia consolidata bonucci chiellini e quindi probabilmente raiola aveva così fatto squillare il campanello attorno al nome del suo assistito proprio per invogliare eventuali acquirenti a bussare alla porta sua ed eventualmente della juventus in ottica della prossima prossima stagione quindi della possibilità di liberare il giocatore dalle grinfie di massimiliano allegri che in quel momento gli preferiva spesso la coppia bonucci chiellini oggi invece del it è sereno è felice è contento perché sente la il peso della responsabilità una responsabilità però che non gli pesa ma che anzi lo gratifica perché lui stesso si è detto molto contento che in un momento in cui i suoi compagni purtroppo stanno attraversando un momento poco felice perché spesso colpiti da infortuni lui è chiamato in causa a dirigere il pacchetto a retratto bianconero e lo fa con un grande entusiasmo con l'orgoglio appunto di vestire questa maglia gli piace il progetto è felice dell'arrivo di dusan vlaovic io credo che queste siano tutte parole che lasciano poco spazio ai dubbi nel senso che quando concludendo dice che in tre mesi tante cose possono cambiare facendo riferimento alle parole di allora di minoraiva penso che sia un chiaro segnale della grande possibilità che c'è da parte sua e della juventus è di allungare il contratto in scadenza 2024 perché la juventus ovviamente non può permettersi il rischio di arrivare ad un anno dalla scadenza e quindi si sono già avviati i contatti per estendere il contratto di mattais del it eventualmente consentendogli di abbassare quella clausola monstre che lo lega alla juventus e che disincentiva qualsiasi acquirente a prelevarlo direttamente qualora lui ripeto fosse consenziente però la volontà dell'uno e dell'altro è quella di proseguire insieme e quindi la mia sensazione lo ribadisco non è di un mattais del it lontano dalla juventus ma sempre più centrale nel progetto con un contratto che sarà esteso e che quindi legherà ancora più in maniera più forte l'olandese alla juventus vado in chiusura per un piccolo inciso su alvaro morata dalla spagna mi giungono notizie che la juventus avrebbe parlato con il suo procuratore facendo presente la volontà di riscattare alvaro morata al termine di questa stagione dopo la possibilità avuta nella sessione invernale di lasciare la juve la volontà della juve è quella di invece di rilevarne il cartellino dall'atletico madrid che non lo ritiene parte del proprio progetto non piace al ciolo simeone ovviamente però lo vuol fare a condizioni ben diverse dai 35 milioni pattuiti in origine mi hanno riferito di una cifra intorno ai 15 milioni da capire se a questi andranno aggiunti eventualmente bonus o se saranno i 15 comprensivi di bonus c'è tempo la juve lavora però per far sì che alvaro morata resti alla juventus anche alla prossima stagione perché ripeto piace massimiliano allegri piace alla stessa società la sua dedizione ed ora che è arrivato alla punta centrale liberandolo nel ruolo di seconda punta quello a lui più congeniale la juve è tornata ad apprezzarne il grande contributo che lo spagnolo può dare lasciatemi i vostri commenti ci godremo domani sera la sfida fiorentina juventus poi ci ritroveremo ovviamente per commentarla nel frattempo fino alla fine forza juve ciao